Faccio una pasta a forno. Che buono dorino! Gli faccio una pasta a forno. Mmm! Non è tu che prepari. E che può mancare il mio pasticcio? Il mio pasticcio non può mancare. Nasce da un'idea di Peppe Bennica durante il pranzo di domenica scorsa quando tutti insieme stavano pranzando al Farm Cultural Park dopo l'iniziativa Favara Mapping Party. Lanciata in quell'occasione ha avuto il consenso unanime di tutti commercianti e amministrazione comunale. Ecco come nasce Pranzo di famiglia in piazza l'iniziativa che si svolgerà domani domenica in piazza Cavour a Favara. Non è un pranzo sociale e neanche un'iniziativa a scopo di lucro ma semplicemente vuole essere un momento di comunità vivendo insieme il territorio. Come partecipare a Pranzo di famiglia in piazza? Cucina a casa e vieni a gustare il pranzo della domenica in piazza insieme agli altri. In piazza Cavour si troverà tutto gratuitamente dalle sedie ai piatti e bicchieri occorre semplicemente portare la tovaglia da tavola preferita e il tuo cibo e se preparerai anche il dolce questo sarà votato da una giuria di piccoli golosoni. Dalle ore 11 iniziano i preparativi si pranzerà puntuali alle ore 13. bell'idea, bell'iniziativa nelle ore 11 iniziano i pazerà puntuali ai piantutti con canale di